Buona festa dell'assunta, è una festa così importante perché ci aiuta a guardare il cielo e siamo in un momento in cui il cielo ci casca addosso, ci è cascato addosso nella pandemia sembra il cielo caderci addosso nella incredibile guerra che ormai da mesi insanguina l'Ucraina e che con le sue scintille minaccia anche tutta la convivenza mondiale capiamo davvero che ogni pezzo è una guerra mondiale anche perché riguarda un fratello perché siamo fratelli tutti, ecco la festa dell'assunta ci aiuta a guardare il cielo e a guardare colei che per prima viene portata con il suo corpo in cielo l'immagine è quella tenerissima bizantina di Gesù che prende in braccio, Maria se la stringe a sé è il contrario e finalmente il figlio che prende in braccio quella che è sua figlia per portarla alla casa del padre, ecco guardiamo in cielo con fiducia dobbiamo guardare il nostro futuro, chi guarda in cielo impara a guardare anche sulla terra chi cerca il proprio futuro impara poi a vederlo e a costruirlo nella vita di tutti i giorni è quello che ci è chiesto con l'umiltà di Maria Maria è grande perché si è fatta serva, perché ha aiutato la felicità di tutti perché si è pensata per gli altri, ecco questa è la via che ci apre il cielo che ci fa vedere e vivere la terra e vedere la terra con occhi nuovi buona festa dell'assunta Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei la benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno perché hai generato il salvatore grazie 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 a tutti.